64 centesimi ce l'aveva fatta Marco Coletta, uscito di strada a Pegolotte di Cono una settimana fa dopo aver sostenuto l'orale del suo esame di maturità. E proprio questa prova, l'esposizione della tesina e l'interrogazione, avevano convinto i professori del giovane, studente dell'Istituto Professionale Marconi di Cavarzere. Stava tornando a casa quando la sua auto è sbandata finendo la sua corsa contro un furgone. Per lui non c'è stato nulla da fare. Venerdì l'addio nella chiesa di Arzarello di Piove di Sacco e qui la vicepreside dell'Istituto ha anche comunicato la votazione di quell'esame, tanto atteso dalla famiglia e dagli amici.